Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, questo è il video sugli acquisti naturali del mese in collaborazione con i piccoli canali Power, come al solito trovate giù nell'info box i link di tutti i canali che partecipano a questa collaborazione e io saluto Gian Giuseppe, Giulia, Daniela, Giulio e Rossella Prima di iniziare mi vorrei scusare per l'assenza di questo periodo sul mio canale, giro veramente pochissimi video quasi punti, ma siamo in lockdown e stando sempre in casa non è che io abbia molto di cui parlare e come potete vedere sono di nuovo dai miei genitori per questo lockdown allora ho da mostrarvi pochissime cose, sono praticamente tutte cose che ha preso mia madre perché io appunto non esco di casa ci sono due prodotti che ho acquistato nel mese di novembre e che ho lasciato a casa mia e sono due ammorbidenti della Winnis, la Coricarica uno ai fiori bianchi che ho acquistato un sacco di volte e che mi piace molto e l'altro è un'altra versione con un'altra profumazione sempre di Winnis che però non ricordo e devo dire che come effetto ammorbidente sono uguali ma l'altra profumazione mi piace molto di più rispetto a quella ai fiori bianchi poi io avevo acquistato a casa mia e poi mi sono portata qua perché li avevo già aperti e non volevo lasciarli a casa aperti questi fiocchi di mais di verso natura Conad Bio sono appunto i classici cereali per colazione che io non metto nel latte ma li mangio così tipo popcorn durante la didattica a distanza così ho qualcosa da sgranocchiare ma non divento obesa non sono male, non sanno di praticamente niente però a me non dispiacciono questi sono finiti, non era la prima volta che li acquistavo e ogni tanto li sgranocchio anche Olivia poi ho tre prodotti per quanto riguarda la cura della casa che ho acquistato mia madre ma che le avevo detto io di prendere allora ho fatto prendere il detersivo per la lavatrice questo qua è quello Bebé di Chanteclair Vert questo qua è con latte di avena, ipoallergenico, testato a metalli 100% di attivi di origine vegetale completamente biodegradabili mi sta piacendo molto questa versione non l'avevo ancora provata io avevo detto a mamma di prendere qualcosa di naturale per lavare i panni in modo di non avere allergie neanche qua e devo dire che è veramente molto buono lava bene, non lascia profumazioni troppo forti sui capi sa proprio di pulito di bambino è buono, ve lo straconsiglio non credo costi tanto l'ha preso al tigotà poi ho fatto prendere il mio amore così anche qua pulisco con questo ed è il multiuso della Winnis se mi seguite sapete che a me piace molto ed è l'unico multiuso che utilizzo è efficace, non ha una profumazione particolare comunque non rimane sulle superfici pulisco qualsiasi tipo di mobile e mi trovo veramente molto bene l'ultimo prodotto, questo l'ha preso mia madre è la seconda volta che l'acquista è il gel per lavastoviglie della svelto certificato Ecolabel ed è questo qua con aceto bianco io i detersivi per lavastoviglie della svelto non mi fanno impazzire lei invece l'aveva già acquistato si è trovata bene e quindi ha riacquistato questo e devo dire che nella sua lavastoviglie effettivamente funziona le stoviglie vengono belle pulite nella mia vengono pulite ma ecco secondo me quello di dual power quello del green nella mia lavastoviglie funziona di più di questo qua però ho visto che appunto questa di mia madre funziona bene e quindi se lo trovate in offerta magari provatelo e non lo so magari anche voi vi potete trovare bene e quindi niente a lei piace appunto la seconda confezione credo di penso di essere quasi a metà con questo caso comunque io la lavastoviglie quando la faccio perché ancora non ho capito come funziona benissimo quindi questo erano gli acquisti naturali del mese che sono stati veramente pochissimi ho girato il video solamente per chi era in collaborazione e ci tenevo quindi a farlo e anche un po' per appunto tenervi compagnia ogni tanto visto che non pubblico praticamente quasi più video quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un like un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere e mi raccomando passate anche dagli altri canali io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti